Ciao a tutti ragazzi, come vedete siamo su FIFA 22 e siamo a COMO, grazie alla NIRMORD, la moda che ho realizzato per giocare la Serie B e la Serie A su FIFA 22, sto iniziando questa carriera con il COMO che è stato scelto tramite il sondaggio su FIFA 22. Allora ragazzi, prima di indicarvi il tutto, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri video e soprattutto iscrivetevi al gruppo Facebook dove viene rilasciata la mod per giocare la Serie B su FIFA versione MC e soprattutto tutti i vari aggiornamenti che ci saranno nel corso del tempo in base all'aggiornamento della mod stessa e del gioco. detto questo, siamo a COMO, l'allenatore che ho scelto è Erzor Magarra, Carletto Mazzone, siamo un Mazzone molto più giovanile ma non c'erano altri avanti al gruppo e niente, siamo a COMO, ma vi ho detto questa è la squadra, la rosa, stiamo per giocare alla semifinale del torneo amichevole, mi sto già muovendo sul mercato, sto valutando i terzi voli, solo che ogni volta che arriva una cosa sono le basse le pippe, sino a sinistro, 5 e 9 da campo che abbiamo trovato, ci vediamo tutta questa gente, questo non saprei neanche come pronuncerlo, Mika Icenko, Mika Icenko, pure lui, che non saprei, non saprei, non saprei, mi posso vedere l'altro ruolo che sto cercando, non saprei un piste, ci serve anche un tazzo destro, mi scelgo la fame, la sede, vado giù a cresciare, diciamo la ricerca di uscire una pista e poi a parte il musacchio il musacchio la rossa e il musacchio pure lui è uscita da un botto i cari sono le stesse un azzardo a sinistra un indri no no questo lo voglio solo per noi no no indri voglio indri voglio indri perché perché è un indri un indri lo voglio tutti si che faccio pure una foto non servì per altro andrì un intervolo e niente andiamo a simulare perché tanto di giocare la girona non me ne può fare meno un po' verso fine del torneo migliere arrivati fino ai semifinali e va bene così allora ho visto il video della mod sa che la mod è tutta completa ma io lascio vedere comunque vedete c'è tutta la serie B le promozioni per là c'è la Coppa Italia con tutte le 40 squadre parte la serie B ci sono i lay off quando si rilascia a un certo punto poi poi la Champions League è tutta giornata questa è una cosa che devo ancora rilasciare perché nella mod che trovate attualmente su Facebook ancora non c'è sto migliorando la sto testando con questa carriera quindi al prossimo rilascio avrete la Champions League aggiornata con i gironi reali avrete l'Europa League con i gironi reali e avrete la GoFrance League aggiornata con i gironi reali le squadre reali eccole qua almeno dove è possibile il piano al Dandino non so proprio reali forse diciamo che sia unico dovrò modificarle per farle diventare reali ecco vedete il girono è questo c'è qui posso mi sto guardando intorno perché d'accordo comunque siamo sempre nel mercato sono arrivati in patria che sono conti a noi Gabriele noi buon attaccante del coseno soprattutto molto veloce per si grande noi siamo c'è Enrique c'è 54 di velocità e raccordiamo la droga ma questi vanno sei migliori c'è un cdc mi piaceva non manco tanto bandinelli da dove c'è un cdc c'è un cdc c'è un cdc buone caratteristiche per il resto però dico pure lui invece magari era un paio non bianchi buone caratteristiche anni se prendete su più testi c'è un cdc che prende burrai c'è un cdc buone caratteristiche c'è un cdc 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 bravissimo yoga cosa che fai l'attaccante con c'è un cdc l'ombra io ci provenremo all'inizio la stagione che avremo nelle prime partite Taternale nel Pordenone studiamo un cdc c'è un cdc c'è un cdc c'è un cdc guardiamo la cosa è la glamba facendo quella è la glamba la piendo la linea è un cdc 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 in un cdc 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 I segnali. Sicuramente più veloce. C'è 70 già giocando, quindi... ...quanto è un po' più giovane qui. Solo che noi siamo... ...pensato esterni i testi. Fumbo! C'è il posto a Bollon. Proseguiamo la speranza di essere nuovo a livello di mercato. Il posto molto finale su Luca Vito. 68 sicuramente più veloce di Jerry. Regalio. C'è il primo. E' un po' di brusca gina. Due anni. Ma Luca fa poco. Sì da sinistro. Di due anni mi potrei crescere. Torno per far poco a quattro mila. Ma è che non cifre alte. Io sono povero. tre anni nell'Empoli. Presento. Quattro degli attaccanti. Che cosa vedi? Lautaro Martinez. Sarebbe voglia di dirgli. Ma io Lautaro Martinez. Secondo voi con cosa lo pago? ... ... Su la giornale. Tutte le dici di novità se c'è un programma che sta c'entrata. Adesso è chiusa di fare c'è un programma che sta c'entrata. Non ci sono mai amici. Ma io lo so ne sono i programmi. Ma io sono i programmi. Questo non è un programma che sta c'entrata. Che ci sono i programmi. Ora si dai rovo, noniamo, dammo il nominio, dai, 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 e dai, 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 zero capayashi elvis capayashi ci sei ah, buon capayashi due e due, loro affrono due e due buon zon no capayashi scrivi mandari un pezzito bomba un pezzito bomba un pezzito bomba ma è qualcosa di americano accetta io avrei che togli l'inanda e poi devo prendi che dici ma pure che faccia 50% dell'ingaggio io a 1.700 su questo servizio tra la vita mi piaccio vedere tra la vita e che devo andare con qualcuno allora facciamo un elemento 2.7 2.8 ciao caro ci scrivo in arrivi vediamo un po' che succede 54 ragazzi 15 anni e ce l'hanno 54 che ci sta avanzando bravo si sa se a correre maianina ci sono ci sono maianina un po' che non è maianina l'ho fatto allora fuori cosa cosa ma avrò pot dai moment us sinistri centro campo a prendere si prende bianchi la nazionalità che è la bandesana bianissimo oppure nemmeno siamo qualcuno dei nostri spinguti sono tutti spinguti 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 vediamo spinguti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. no ok 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 non è quello che chiedi che si vende ma non è l'ingaggio ci serve uno che fa da destra 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 bravissimo bravo ragazzo ci serve uno che fa da destra ci serve uno che fa da destra non non c 23 ok 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 Vai a continuare a farlo, perché... Qua se l'ha riuscita... 68... Indri... Perché c'è 68? Ma solo per la velocità che ce l'ha! La prende, vai! Moreno! Certo! Certo! Sto prendendo... Poi che d'ormento stumbo... Sto prendendo... Che chiesto? Sto a 1-2-7... Questo è 1-2-7... Quando arrivi... Ho fatto dire che ci possiamo andare a prendere! Poi, quando arrivi... ora è da moca niente poi con la migliettese è tornata alla rivendita dai la rivendita al 16 poi lo scopo il cartellino ah vedi ma vedi mi ha andato a gente quale tratta bene si tratta Iga Icenko ok 5 anni di contatto almeno 3 dai l'anno scorso l'ho fatto la promozione in alto i titoli di seriana la coppa Italia e ho perso fidere certo si che non ti piace l'anno certo vado meglio io vorrei do almeno se accorgio bonus certo sapete quanto prende io l'anno ok voglio prendere Giovanni Indri Giovanni Indri io faccio pure partito in un'area Giovanni non caglia non scambiava 5% della rivendita si va benissimo Giovanni Indri un uomo un perché se così magari è cruciale Indri 5 anni Indri giovane 5% 5% 5% 5% 5% 5% ok ok ho preso voi entri ragazzi però ci serve un attaccante un momento ok ho preso e non fissi però sei adoro sistema adesso mi aggiorni guardate fammi degli appunti ok non mi piace 6 milioni ora ho scherzata 5 oh 8 5 9 ciao abbiamo giocato ma che bene tutto è sicuramente più veloce dei gol calabinov non gioiai calabinov vedete il veloce dei cerri non 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 è non però Oh, non sai che non sia la pippa. E poi ci sono i tuoi primi. Dio, non è la pippa. Il parabino non sia la pippa. E in cambio, ho detto, cambia la pari con la cuomina. Sono 150 perché ho scelto. Sono una cuomina. E' una normale. Sola. Allora. Questo è importante. Certo. Il 22 anni. Sono almeno un panni. Cosa riesce? Sto io a me sembra una scelta. ok pochi albano si va bene quattro ok ok il motone no Eppure più veloce si è. Calabino! Giocati da là! Cattino qua! Catto! Cambiamo! 10 cali nei 5! Buonissimo! Vedete ragazzi abbiamo una gran bella squadra! Andiamo a cambiarlo all'indri! Andiamo a giocare a questa prima taglia, ma come? Andiamo a cambiare! Allora, come? Andiamo! Andiamo a cambiare! Contro la Bernara, noi giochiamo con l'anno bianco, allora giochiamo con l'anno completa e andiamo. Grazie, guardate, c'è pure la vettura. Se fossi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumentano i decibel sulle tribune. Vi do il benvenuto con me come sempre per il commento tecnico Daniele Adani. Riparte il campionato per queste due squadre, entrambe ci terranno a ben figurare l'esordio, soprattutto i padroni di casa di fronte al proprio pubblico. Partirà che promette grandi emozioni. Che atmosfera sugli spalti. Non potrebbe essere altrimenti, l'appuntamento di quelli che vanno sottolineati sul calendario. Nessuno è voluto mancare oggi, infatti. Perché? Perché si apre ufficialmente la stagione, è la prima gara di campionato, l'emozione è enorme. Avanzano la traquarche avversaria. Pallore che ha superato la linea laterale. È una giornata particolare per questo giocatore, sempre delicata la prima presenza con una nuova maglia. erano a ricerca di un esterno di difesa e capace di garantire una maloccorrenza. Dovide, 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 Dovide! E poi così, Dovide! E andiamo ragazzi. Sbaglio il culo. Dovide! Che bello. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiali direi. Non ha davvero lasciato scampo il portiere con questa botta dalla media distanza. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Guardi. Ci vuole il pallo, è grandissimo. Entri. 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 Occhio a ribaldi. Mamma mia, grandissimo. Calabino. Proprio un gruppo pallone, un rapace in aria. Mi ha fatto un'altra domanda. E' meglio, è tutto divino, mi raga. Sì, mi rigo. Perché è un tocco facile da pochi passi sulla respinta dell'estremo difensore. Che è stato bravo, eh. A un forse la prima battuta. Attenzione, è la grandissima. Ma è un secondo tentativo. Distinato, è scelto. E c'è la conclusione. Ma è scelto, ma muovi, porca trone. Muovi, porca trone. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui è impattato la palla, non può far niente il portiere qui. Il punteggio adesso è di 2 a 1. Passaggio intercettato. Chatsby cross. Miiresti di parole famose. Hanno l'occasione, attenzione! Che sorranco! Ti dici, du ti 되ò! Un'altra rete! E adesso la parità! Ti dici, du ti do! Ti dici, du ti do! Ti dici, du ti do! Più, ti dici, du ti do! Si è avventato sulla palla e calciato il volo. Davvero un gran gol. L'arbitre la dice... C'è spazio per la ripartenza. si libera dell'avversario può avanzare di una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere non poteva fare molto e da quella distanza per questo intervento manca poco alla fine cercano il gol per mettere la partita in cassaforte su questo calciano interrompe bene l'azione qui si chiude qui allora togliamo il campionato con una vittoria che la fiducia morale avanti intervista da mattina ok la ringrazio per aver accettato di venire i nostri microfono chissà le ragazze hanno avuto al cento nel cento raggiungo i cordebo volevo fare una sorpresa ma mi è piaciuto non è facile e ambientarsi liberiamo il mister è tutto grazie grazie è troppo buono grazie 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 ok ragazzi io direi che per questo grande episodio ci possiamo fermare qui vi ricordo un momento della seguita a chi va per iscrivervi in casa una campagna per essere sempre giusto e mi raccomando iscrivetevi al gruppo facebook perchè solo lì troverete la niermod e tutti gli aggiornamenti Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.